Marco Predolin torna al grande fratello, scintille in arrivo Marco Predolin torna al grande fratello VIP, l'annuncio dell'ex concorrente per questa sera. Marco Predolin questa sera è pronto a tornare al grande fratello VIP. Il conduttore non è riuscito ad accettare la squalifica da parte del reality. Ricordiamo che l'ex concorrente ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia a causa di una bestemmia. Più volte Predolin è stato messo sotto accusa per alcune frasi da lui rivelate. Ma Marco non ha alcuna intenzione di farsi da parte e ora vorrebbe avere un riscatto per quanto accaduto. Per tale motivo, ha deciso di condividere con i fan un video che anticipa quanto potrà accedere stasera. Predolin ha ripreso se stesso e la compagna Laura mentre si dirigono a Roma con il treno. I due hanno annunciato di essere ancora molto arrabbiati per l'eliminazione ingiusta dello scorso lunedì. Questa sera, i due ironizzano, si legheranno ai cancelli di Cinecittà per protestare. I due ancora non sarebbero stati convocati dalla produzione del programma. Nonostante ciò, hanno intenzione di essere presenti durante la puntata. Per tale motivo, Marco e Laura chiedono ai fan di guardare il reality questa sera, poiché probabilmente li vedranno arrivare in studio come due pazzi. Si prevedono, dunque, scintille per la quinta puntata. Grande fratello VIP, Marco Predolin disposto a tutto pur di far valere le sue ragioni. Marco Predolin appare molto agguerrito. Il conduttore, insieme alla compagna Laura, ha intenzione di prendere parte alla puntata di questa sera. Ma non solo, l'ex concorrente non cede e continua a non accettare la sua esclusione. Per tale motivo, tra le risate, ha dichiarato nel video condiviso su Instagram, stasera ci presenteremo e ci legheremo ai cancelli di Cinecittà. Predolin confessa che lui e Laura sono ancora molto arrabbiati per la mia esclusione ingiusta. Ma la produzione non avrebbe fatto alcun passo verso di lui per questa sera, per ora non ci hanno ancora convocato, però noi ci stiamo muovendo. Così, la coppia ha deciso di invitare il fan a guardare questa puntata, stasera seguiteci perché secondo me vedrete due pazzi entrare in studio. Dopo Marco Predolin, un'altra squalifica al Grande Fratello Vip. Riuscirà Predolin a entrare nello studio del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere questa sera per scoprirlo. Sicuramente il conduttore è molto agguerrito e non ha alcuna intenzione di mettersi da parte. Nel frattempo, si parla già di seconda squalifica, ovvero quella di Jeremias Rodriguez. Nel frattempo, si parla già di seconda squalifica, ovvero quella di Jeremias Rodriguez.